Immaginate questa strada percorsa da centinaia di persone tutte in fila per aspettare il medico santo. Stiamo parlando di Giuseppe Moscati e proprio questa era casa sua. Lui accoglieva qui i poveri tutti i giorni per curarli a proprie spese. Scienziato, medico e uomo di profonda fede, Giuseppe Moscati era il punto d'incontro fra religione e scienza. Era chiamato anche il medico anargyro, dal greco anargyros senza soldi, proprio perché pagava di tasca propria alle cure per i suoi pazienti. Per lui il malato era addirittura una missione religiosa. D'altronde il cappello nel suo studio lo dice chiaramente chi ha metta, chi non ha prenda. Questa era infatti la parcella che chiedeva a tutti i suoi pazienti. Ogni mattina Moscati si svegliava prestissimo per visitare gratuitamente i malati dei quartieri spagnoli. Poi prendeva servizio nell'ospedale degli incurabili e la sua giornata finiva pregando nella chiesa del Gesù Nuovo. Ma Moscati non fu solo un uomo di fede. Fu uno scienziato di primo piano e promosse studi sulla tubercolosi e sul colera. Era professore dell'università di Napoli ed ebbe anche molte richieste di trasferimento all'estero, ma rifiutò tutto per rimanere vicino ai poveri di Napoli. Arrivò poi il pomeriggio del 12 aprile 1927. Come al solito fuori allo studio c'era una fila di poveri in attesa della visita. Le porte però non furono mai aperte. Moscati era morto. Aveva 46 anni e un malore lo portò via a causa del troppo stress. Da allora i malati lo invocano nelle preghiere e molti affermano di averlo anche visto in sogno. La chiesa gli ha anche attribuito un miracolo che per giunta gli è valso la santità. Pur essendo morto da quasi cent'anni Giuseppe Moscati ha una memoria ancora vivissima. Proprio qui a piazza del Gesù Nuovo nella chiesa del Gesù ha una stanza dedicata solamente a lui con addirittura la ricostruzione del suo studio e ogni giorno centinaia di fedeli si recano proprio qui davanti alla sua statua per chiedere la grazia.